27 domenica del tempo ordinario. Nel Vangelo di questa domenica abbiamo la parabola dei vignaioli omicidi che è la tragica ed inquietante storia di un omicidio, anzi di una serie di omicidi, di maltrattamenti rivolti ai servi del padrone. La parabola è tragica ed inquietante ma vale la pena di considerarla con attenzione anche se di sicuro non è nei primi posti delle scelte per esempio dei matrimoni o nelle letture, nelle meditazioni dei gruppi ecclesiali. Infatti questo non è quel tipo di testo che in genere un sacerdote desideri commentare e si sbaglia. Vediamo il perché. È infatti la storia di un padrone che dota una vigna di tutto quel che serve per essere ben coltivata. Questa infatti è la citazione del passo di Isaia che troviamo nella prima lettura. In quel caso la vigna produceva frutti amari ed era un problema del terreno, della vigna propria, ma Gesù sposta l'attenzione sui contadini cui la vigna è affidata, i quali ne gestiscono i frutti in modo disonesto e violento. In Isaia la cattiva risposta della vigna si risolve in un annunzio di sventura. Spesso nel Nuovo Testamento questo tipo di tono sparisce ma non qui dove Gesù rimarca con rinnovata durezza quelle minacce che ora sono rivolte non più ad una vigna simbolica ma ai vignaioli criminali. A cosa serve ascoltare una parola di questo genere? Bisogna domandarsi una cosa. Il padrone che è il Padre Celeste ha diritto di chiedere i frutti? Pensiamoci bene, Dio ha diritto di bussare alla mia porta e chiedermi cosa sto facendo della vita che mi ha regalato. Dio ha diritto di vagliarmi e chiedermi se sto corrispondendo ai doni che mi ha fatto. È giusto che il Signore chieda frutti a tutta la sua chiesa che è la sua vigna? Prima di rispondere proviamo a fare un'altra domanda. Ma Dio viene davvero a chiedere il frutto? Sì, dobbiamo rispondere molte volte nell'esistenza. Bussa alla mia porta in tutti quelli che mi circondano e mi chiedono di dare frutto come uomo, come fratello, come padre, come cristiano, come prete o quel che sia. Mille volte Dio sta nascosto in un figlio che chiede di entrare nella sfida paziente della relazione o in un parente anziano o malato che con la sua esistenza chiede c'è un po' di amore per me nel tuo cuore? Dio ha piantato tanto nella vita di tutti noi. Siamo stati amati, perdonati, accolti, abbiamo ricevuto molto per arrivare all'amore. Un coniuge chiede frutto, un amico chiede frutto ed è giusto perché la gente ha diritto ad esempio di trovare in un prete un uomo di Dio e non uno zitello individualista e narciso. E una bimba ha diritto di trovare in una madre una donna adulta che si sappia trascendere e che le insegni la tenerezza. Quando qualcuno non trova questo nel suo prete o in sua madre, se si lamenta, ha ragione. Ci sono dei frutti che la stessa umanità chiede a buon diritto di fornire. Ma poi ci sono i doni della vigna del padrone che è il suo popolo santo, la missione che ci affida e a tutto quel che ci è dato come cristiani. Il mondo chiede conto alla chiesa dell'amore di cui parla se non siano chiacchiere. Vale la pena di misurarsi con la serietà di questo testo perché dare i frutti è la nostra felicità più grande e di contro ragionare in modo rapace e autoreferenziale come i quei contadini vuol dire trasformare la vita in una porcheria. Siamo nati per amare, siamo nati per dare frutto e solo l'amore vero che viene da Cristo ci può dare la gioia vera. È bello, molto bello dare frutto nella vita. Al termine dell'esistenza quando tireremo la riga e ci chiederemo come abbiamo vissuto misureremo se abbiamo amato o no, se abbiamo dato il frutto, se abbiamo corrisposto al bene ricevuto, se la vita che è tanto generosa ha trovato generosità nel nostro cuore. Vale la pena di rimarcare la buona prospettiva che possiamo prendere da questo testo. Vale a dire noi siamo fatti per dare frutto, noi siamo terreno fecondo e con noi Dio non fa una cosa banale ma c'è tanto di bene in noi, c'è tanto di importante in noi che non va spregato. Questo va detto ai giovani di oggi che sono fecondi, che c'è tanto bene, c'è tanto di buono in loro e che Dio ha seminato in loro anche e soprattutto nelle cose che loro forse non capiscono della loro vita qualcosa di importante. Quanto è triste la vita di chi pensa solamente a usare la propria vita per se stesso, poi non c'è l'altro, poi non c'è il frutto, quindi non c'è più la pienezza perché solo l'amore ci può dare un senso di compiutezza. Tanta depressione oggi, tanto grigiume diffuso è collegato a questo orientarci antropologicamente in maniera sbagliata verso la ricerca di un nostro proprio appagamento, ma c'è un appagamento più grande, quello che è collegato al saper restituire il bene, saper corrispondere al bene. Se è bello essere amati, è molto più bello amare.